Scegli Coconato Automobili, scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili, vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili, ospita la gentile clientela nella propria sede. Incontra da Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com I volontari della Croce Rossa, presenti ovunque ce n'è bisogno. E così l'associazione Amatori Football di Castrovillari ha deciso di omaggiare loro con dei presidi. Si tratta di una barella e di un borsone contenente il necessario per intervenire in caso di bisogno. Semplice ma sentita la manifestazione che si è svolta sul rettangolo di gioco, dove ogni settimana si svolge il torneo amatoriale. Abbiamo pensato che una associazione di bonderato come questa della Croce Rossa italiana mancasse a questo torneo amatoriale ma seguito in tutto il circondario. E comunque per quello che ci offrono tutte le settimane presenti sempre al campo ci è parso comunque giusto e doveroso fare una donazione del genere come la barella e il borsone per i servizi. Faccio parte della Croce Rossa da sei anni e invito tutti a cercare di fare qualcosa per quanto riguarda il volontariato. Noi lo facciamo con passione, senza scopo di lucro. Siamo molto onorati e grati di aver ricevuto questi premi, questi presidi importanti per la nostra sede di Croce Rossa di Castrovillari.